Focus sulle opportunità e criticità negli scambi commerciali internazionali con i paesi sottoposti a restrizioni, in particolare Russia e Iran, per quanto concerne i prodotti dual use, ossia che possono avere utilizzo sia civile sia militare. Grazie a un seminario all'Associazione Industriale di Cremona, la Banca di Sondrio, insieme allo studio di consulenza legale tributaria KPMG, ha fornito le indicazioni necessarie alle aziende che vogliono sfruttare le opportunità dei mercati senza cadere nelle pesanti sanzioni previste dalle normative europee per gli esportatori che non si attengono ai regolamenti o che non forniscono le autorizzazioni necessarie per i paesi a rischio sottoposto a restrizioni. Fondamentale risulta l'accompagnamento e la consulenza fornita alle imprese dal momento che, oltre a pesanti sanzioni economiche, è prevista in alcuni casi persino la detenzione. In particolare noi ci siamo focalizzati in questi ultimi anni sull'Iran, assistiamo circa 500 aziende che operano regolarmente sul paese. Il paese è molto interessante, ha molte risorse economiche, ha voglia di investire, l'embargo ha creato per loro delle difficoltà che adesso verranno superate con queste prossime aperture. Le potenzialità maggiori di sviluppo, a mio avviso, sono proprio nel settore oil and gas e petrochimico che poi sono quelli di punta del paese. Voi comunque supportate in questo percorso le aziende quando intraprendono questo cammino? Certamente anche perché oggi è necessario richiedere delle autorizzazioni finanziarie per ogni movimento che viene fatto dal punto di vista finanziario e la banca supporta in toto gli esportatori su questo aspetto, nel senso che le autorizzazioni necessarie finanziarie vengono richieste dalla banca per conto del cliente, come previsto dalla normativa. Poi forniamo supporto anche nei casi dove ci sono più difficoltà a comunicare con la controparte e anche magari direttamente con la controparte iraniana. Taruni di queste attività impone delle autorizzazioni che devono essere richieste, nella stanza delle quali possono rappresentarsi le fattispecie penalmente rilevanti. Allora al fine di neutralizzare il rischio serve consapevolezza e ottemperare le istruzioni che ci sono state date dalla Dogana e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ci sono delle opportunità importanti e possono essere colte nel rispetto di queste restrizioni che, come dicevo, devono essere osservate pedissequamente.